Musica Ehi ragazzi, eccomi qui, sono il vostro DJ della notte, sono il vostro Lucignolo Corlo ci manda una segnalazione su un evento all'art club di Desenzai, la Coppa Bruca E noi, cosa abbiamo fatto? Beh, ci siamo andati Oh, Rosso, Rosso, Rosso Ma chi, 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 chi E' così Andiamo St quel non lo si cordero Allora, un uomo di russi Aspettate un uomo di russi E' un uomo di russi Sì, 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 un uomo di russi Lui che si smosa! Lui che si smosa! Lui che si smosa! Lui che si smosa! Facciamo un applauso bravissimi eh! Che coraggio! Oh, 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 oh! La ricorda delle sue cene, dal suo passato! Un grande passato? Qualcun il tuo? il palco vogliamo tutto il prodotto sul palco tutto il prodotto li da facciamo un applauso veramente fantastici 11 veramente incredibile e questo è alto perché è alto in tutto si distingue e adesso andiamo alla regia il nostro Graziano Famelli notte fantastica notte Alcab am right mi 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 me mi 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 mi